Dai eh Chico, andiamo di lasciarla a casa, è il carrello sto giro eh, vediamo, di nuovo come prima, bello convinto, dai eh, e là 15, là il primo bivio, dacci l'accenno e poi andiamo via subito eh, 10, 5, 4, 3, 2, 1, vai, 30, destra 5 diventa 4, in sinistra 3 taglia, taglia, per, destra 4 più dalla fine, in sinistra 3, in destra 3, bravo Andrea, in sinistra 4 meno meno, in destra 2 taglia, per, sinistra 5, sfiora destra, in sinistra 2 vai, per, destra 4 aggancia, in sfiora sinistra, al buio destra 4, in sfiora sinistra, al muro stai a destra, in sinistra 1 sale, poca leva eh, Andrea, poca leva, andiamo via eh, signora destra, in sinistra 2, in destra 4, per, ritarda destra 2, in, ritarda sinistra 3 meno meno taglia, per, per, destra 3, no, muretto scivola, occhio questa, 30, dosso dritto, in destra 2, in al buio, dosso dritto, per, destra 4, in sinistra 3, per, destra 2 taglia, taglia, in sfiora sinistra, in sfiora sinistra, in destra 6, per, al buio, sinistra 3, diventa 2, gira, gira, diventa 2, gira, gira, in subito, subito, destra 2, scende, 150, sinistra 2 aggancia, per, sinistra 4, per, destra 4, in, destra 3 diventa 2, per, sinistra 2, per, destra 3 vai, 50, destra 3, in al verde sinistra 3, sfiora a destra, 100, destra 3 meno meno, in al muro bianco, sinistra 3, per, sinistra 5, in destra 6, 100, sinistra 4 vai, vai, sotto di 5, per, destra 4, destra 4 aggancia, 50, sinistra 3, occhio adesso questa, per, destra 6, 200, destra 6, in attenzione, frena, sinistra 3, diventa inversione destra al palo, poca leva, andiamo via subito, eh, 150, destra 5, in destra 4, sfiora a sinistra, sfiora a destra, indosso sinistro, 150 sinistri, destra 5 meno meno, 50, sinistra 2 vai, vai, 100, sinistra 5, per, destra 4 vai, vai, poco sinistro, eh, Andrea, per, destra 6, 200, chicano 3 entra, sinistra, 50, dai, 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 destra 2, in sinistra 6, per, sinistra 6, 200, 200, sinistra 5, per, destra 4 aggancia, diventa 6, 200, attenzione, sfiora a destra, in sinistra 1, sale, poca leva e via subito, eh, in sinistra 4, oh, 40, 41, è abbassata di 6, bravo.